Caro Presidente Zelensky, caro Volodymyr, non stiamo vivendo giornate come altre. Sono giornate particolari per l'Ucraina e per tutti noi. Oggi è 25 novembre e insieme commemoriamo le vittime dell'Holodomor, lo sterminio per fame perpetrato 90 anni fa dal regime sovietico ai danni del vostro popolo che ha causato milioni di morti. Oggi è anche il 640esimo giorno di eroica resistenza del popolo ucraino alla guerra di aggressione russa. È il 640esimo giorno di resistenza a chi avrebbe voluto piegare il vostro popolo con le bombe, il buio, il freddo, la fame. Non ci sono riusciti, grazie al vostro eroismo, al vostro amore per la vostra libertà e la vostra indipendenza. Ecco perché l'iniziativa di oggi, Grain from Ukraine, assume una valenza simbolica estremamente potente. L'Italia accoglie con grande favore la volontà del governo di Kiev di dare continuità a questa iniziativa. intende offrire un contributo ulteriore di 2 milioni di euro. In questo contesto torniamo a chiedere alla Russia di rinnovare la sua adesione alla Black Sea Grain Initiative per garantire che i prodotti agricoli ucraini possano raggiungere i mercati internazionali e aiutare in particolare le nazioni più fragili che soffrono di più in termini di sicurezza alimentare. L'impegno che l'Italia assicura oggi alla Grain from Ukraine rientra nel sostegno a 360 gradi militare, finanziario e umanitario che abbiamo garantito all'Ucraina dal primo giorno dell'invasione. L'Italia è e sarà al vostro fianco finché sarà necessario, perché il futuro dell'Ucraina è un futuro di pace, è un futuro di libertà, è un futuro europeo. Il popolo ucraino può contare sull'Italia, ci siamo sempre stati, ci saremo sempre.